Un saluto a tutti. Da piccolo sono cresciuto con la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali. Alle scuole elementari ci tenevano a spiegarci cosa fossero l'inquinamento, il riciclaggio, lo spreco d'acqua, ecc. Non ho mai fatto studi scientifici specialistici sull'ambiente, per cui non posso affermare con certezza se si trattassero di informazioni veritiere o no, o in parte vere e in parte false. Sappiate che esistono effettivamente delle scuole di pensiero sui cambiamenti climatici, ad esempio c'è chi crede che le temperature si abbasseranno negli anni, come nel film di Day After Tomorrow, c'è chi crede che i cambiamenti climatici sono naturali e ciclici e non dipendono dall'uomo, insomma, non saprei nemmeno come orientarmi, perché non ho alcuna formazione scientifica a riguardo. Io sono aperto perciò alla possibilità che effettivamente sia tutto falso, tutta una bufala, ma per poter affermare una cosa del genere dovrei comunque informarmi scientificamente, sì, perché la scienza non dà certezze, le cose sono vere fino a prova contraria. Per ora posso solo farmi questa domanda. E se fosse tutta una bufala, quali sarebbero le conseguenze, spesso chi sostiene che è tutta una bufala lo fa per tutelare gli interessi degli ecomostri inquinanti, per togliere a loro le responsabilità dei cambiamenti climatici affinché continuino ad inquinare. Infatti Trump crede che i cambiamenti climatici siano una bufala, ma questo non basta a dimostrare che il riscaldamento globale non esiste, al contrario si accusa chi sostiene l'effettiva esistenza del riscaldamento globale di fare l'interesse di hippies, figli dei fiori, comunisti, new age, e di chi ha investito nella green economy e nelle aziende di riciclaggio, ma nemmeno questo dimostra che il riscaldamento globale sia una bufala. Si tratta di due teorie del complotto contrapposte tra di loro. C'è ancora gente convinta che ci sia un complotto per nasconderci l'esistenza del riscaldamento globale, eppure questa è una cosa risaputa, ce lo insegnavano a scuola, ne parlano i Tg, ne parla l'ONU, l'OMS, fa parte dell'opinione pubblica e del senso comune, mi viene in mente uno sketch di Maccio Capatonda dove in un servizio del Tg viene messo un gattino al posto dell'orso polare, perché il direttore del Tg, presidente di una potentissima multinazionale, non voleva che si parlasse dello scioglimento dei ghiacci e dell'estinzione dell'orso polare. Ovviamente il fatto che Maccio Capatonda ne stesse parlando in tv dimostra che non c'è alcuna censura mediatica su questo argomento, ma se fosse davvero una bufala noi dovremmo smettere di riciclare e le fabbriche dovrebbero continuare a inquinare? Vi faccio un esempio molto banale. Quando passa per strada un camion o un pulmon che mi spara del fumo in faccia con la marmitta, io cosa dovrei fare? Respirare a pieni polmoni, quando mi capita se possibile mi metto la sciarpa in faccia, quando fa più caldo mi copro la faccia con la maglietta e cerco di trattenere il respiro. Lo smog esiste, l'aria di città è irrespirabile, questo non credo che sia innegabile. Un altro esempio che mi riguarda da vicino è quello dell'ilva di Taranto. Il fatto che la gente muoia di cancro, soprattutto nel rione Tamburi, non c'entra niente col fatto che tra 50 anni i ghiacci si saranno sciolti o cose del genere. La diossina e le polvere di ferro li respiriamo adesso, non tra 50 anni, la gente muore adesso, non tra 50 anni, quindi anche se l'inquinamento non causasse il riscaldamento globale causa comunque altri problemi alla nostra salute. Credo che questi esempi bastino per capire quello che voglio dire, spero di essere stato chiaro, grazie per l'attenzione, alla prossima!